Benvenuto a tutti ragazzi siamo sul sesto episodio di Resident Evil Village Avevamo lasciato qua nella soffitta E adesso riprendiamo perchè sono anche già camminando La mappa del tesoro Kitchen, le cucine Dovrò andare vicino alle cucine quindi poi ci andremo Vedremo cosa preparano da mangiare Questo qua è vivo ragazzi Non prendere più il culo dai Facendo accalzare Cosa ho preso? Vabbè Mica muoio le vecchiaia Cioè non è che può morire le vecchiaia quello che stava lì De ragisci Pare che da qualche parte nel castello ci sia un certo pugnale dei fiori della morte Si tratta di un cimelio risalente al medioevo Rivistito da una mistura di veleni provenienti da tutto il continente Fabbricato per uccidere demoni e mostri Sembra un oggetto affascinante ma nessuno sa dove si trovi Secondo me ragazzi questo qua sarà la chiave per uccidere la lady allora Perchè non soffre il freddo Quindi dobbiamo trovare anche questo pugnale Cos'è? Uno sniper? Ok Ho preso il cecchino Ho dovuto far spazio nell'inventare ragazzi Giocando un po' a tetris Dopo me lo sono aumentato prima dal mercante Ho fatto male Perché non volevo vendere Ho fatto giro girello Adesso possiamo uscire fuori ragazzi Possiamo uscire fuori Ui Sono dei pipistrelli Dammi la pistola va Che colpi non li regalano Allora qua possiamo andare Wow 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 E' piano E' sta calmo Quanti colpi? Tre? Sì sì tre colpi Tre colpi Ragazzi 1100 Madonna Ma che è? E' proprio un pipistro Ok Dove si va qua? Andiamo di qua Wow wow Cioè Ho visto solo i piedi ragazzi Solo i piedi ho visto di suo essere Tre colpi muoiono Potrebbe essere troppo l'arma Ah la cristallizzata Ma che drop Ecco qua c'è un bel campo aperto Fatevi un po' sotto Dai Vieni qua Vieni vieni E tre Dammi dai te Dove c'è do 30 Ci ricompro tutto quello che sto usando Per ucciderti No è andato all'altra parte Il fetuso Uè uè Campo aperto Eccoti lì Uno Due E tre Mori lì Dov'è l'altro? Vieni un po' più in giù dai Che non vorrei sprecare i colpi Come ho fatto adesso Uno Due E tre Non è per niente Fatto nessun Non hai dribblato il mio colpo Ok Ma dove devo andare? C'è lì sui tetti Ho capito Ma c'è ancora uno Di qua Uno Eh Il terzo Il secondo l'aveva missato Sei sempre te Cerchi di colpirmi lo stesso Con la tua lingua Ok Andiamo avanti Ok Ci volevano anche quelli che volavano Uno Due E poi vieni qua Vieni un po' più qua Vieni un po' più qui dentro Non voglio andarti a recuperare di sotto Vai vai Milleventi Grazie Ok Munizioni pistola Duecentoventi Ce ne sono più? Uccisi tutti ragazzi Sono così tirchio Che manco li ho Uccisi con Il fucile da cecchino Vai Olè Un'altra Oh Cos'è? Eh Questa qua ce l'abbiamo nel culo Uno Eh no Entra dentro eh Perché Uso i colpi Ma voglio Il bottino Voglio Mi sembra più che giusto Morto con due colpi E il tesoro Sarà bugato nel pilastro Non è morto raga Si è bugato lì dentro Di te Bombe Non posso neanche colpirti L'ho bugato nel pilastro L'ho bugato nel pilastro L'ho bugato L'ho bugato No no L'ho bugato nel pilastro ragazzi Forse si sta Sbagando Oh Ma guarda te Ma guarda te Sei sbagato All'ultimo sei sbagato Mi ha attaccato con i piedi Piedi Mezzumani Cosa mi dai? Alla cristallizzata Vediamo poi quanto varrà Maschera della furia Ok Non mi ricordo più quanti erano gli angeli Questa qua è la maschera della furia Sono venuto qua per questo Adesso come ci ritornano giù? Ah da qua Ok Abbiamo fatto anche questa bella avventura Nei tetti Dai Oh Grazie Ma non sono abbastanza Ok Usiamo l'ascensorino Andiamo giù Vai Interagiamo E si scende ragazzi Non so dove sto andando Ah forse l'inizio ragazzi Proprio dall'entrata Forse proprio dall'entrata ragazzi Sì Dall'entrata Oh Merda Qua si apre No Aspetta bella Fammi 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 passare dalle chiappe Grazie Ci giriamo intorno a quelle chiappe Sono due Quattro Quattro Dammi dal duca Dammi il safe zone del duca Sono quattro ragazzi Devo avere quattro facce Eh merda Non ho trovato rose Infatti Ecco Mi dispiace immensamente Dico davvero Tanto tu pensi solo agli affari Una volta fuori dal castello Allora capirai come trovarla Ah Ok Hai bisogno di qualcosa Sentite i passi della lady ragazzi Sì Che chiudiamo subito la porta Benvenuto Sono sicuro che troverai qualcosa di più Ah c'ho anche la sfera Facciamo la sfera prima Ok Dobbiamo fare questo piccolo tragitto Vai così Si è bugata la lady ragazzi Sentitela che continua a camminare lì Olè Olè Ah ci sono dei Dei fori raga Ok Oh Vinto Ehm A Walt Disney Ah Il teschio Quindi mi regala Una delle mogli Da vendere Merda Ce l'ho dietro raga Dov'è la cucina Sala da pranzo Qua a sinistra Sì sì Diventerò il vostro vino migliore Siete tranquilla Di qua Ah le cucine sono queste Ma c'eravamo già nelle cucine Ho preso la pole Ve la sparo Sì Qui abbiamo fatto la boss fight Dovevo andare qua sotto Uh Ma sì Ma sì Ma qua ci sono già stato Ragazzi Quindi qua Gli tornerono subito nemici Gli tornerono subito Non so neanche uccidere Perché se no Spreco tutto Ok Chiave No Ah sì Ok Spero che si chiuda Uè Vediamo se entrano È chiusa È chiusa vero Merda Era aperta Spero che mi darei un po' di coda Oh Quanti colpi Non è che se arrivano tutti Piano piano Arriveranno tutti Sì Ok Siamo entrati ragazzi Dove c'è Il tesoro Ho sentito i passi della lady raga Qua Lo devo spaccare Devo spaccare Non c'è una pistola Bomba artigianale Dovrò spaccare con la bomba quindi Ok Abbiamo fatto un po' di casino Credo che La lady Lo sappia che siamo qua ormai Uno Ok Ah Basta abbiamo aperto Trovo il coltello Trovo il pugnale Con i veleni No Un occhio blu Vedo lì Occhio azzurro Occhio azzurro E basta Sono venuto qua inutilmente raga Sono venuto dall'occhio azzurro Allora Vediamo un attimo Sala del piacere E armeria Devo andare lì ragazzi Ecco qua Quindi Devo ritornare indietro Giù di qui Dove si va? No 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 C'è la lady ragazzi che ci sta andando a caccia nel castello Cioè Questa cosa L'ha abbastanza messa Molto ma molto più ansiosa La situazione Noi possiamo ritornare su tutti i posti dove siamo andati Comunque è una cosa abbastanza fica questa Ok Allora Devo andare qua Nella sala del piacere Però che c'è la lady da qualche parte Vabbè che ho visto che posso passargli in mezzo alle chiappe In sostanza Cerchi di stuzzicare il mio appetito No 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 Cerco di farmi i cavoli miei Oh merda Ma che è raga Fammi passare chiappona No no Merda Chiavi d'alcina Vai Aspetta paro Grazie Wolverine Ehi Wolverine mi hai buggato Wolverine Devi levarti Devi levarti però Wolverine Così non andiamo a nessuna parte Così non andiamo a nessuna parte Signorina Signorina Porca di una miseria Oh grazie Ah Maschera del piacere Oh Oh Sparano le chiappe Se ne va Se ne va Ragazzi è una cosa veramente strana Quello che è successo Anello D'argento Io ho trovato l'occhio Si Combina Wow Guardate l'occhio ragazzi Che continua a fissarmi Nonostante Io Stia a girare l'anello L'occhio di Sauron Adesso che faccio Me lo metto e volo Boh Ok Noi stiamo andando di qua Ah Dall'armeria 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 Devo spostare Devo spostare sta roba Oh Lì cosa c'è Ok Devo far esplodere come giù di sotto Pronto No Pronta tu un attimo Un attimo Ok Cosa ho mandato all'aria Scusa Eh dai Mi stavo un attimo caricando Che furia omicida Che furia Che furia Ma sai che io non ho usato Ancora questo No L'ho solo fatta assaggiare una No Eh sta buona Ma perché 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 C'è chi da ancora il perché sta qua Scappare Sai la mia La mia È morta è morta è morta Mia È morta è morta Ragazzi abbiamo fatto fuori La terza figlia La terza figlia Non ci credo Ah C'è qui da prendere Teschio di mare Su una base Teschio di mare Su una base E si è aperto ragazzi Abbiamo preso il teschio di animale Ha aperto tutto? No Lì non l'ha ancora aperto ragazzi Lì illuminava ancora Questo qua Interagisci Ecco qua Ok Ah c'è i tasselli uguali C'è quattro tasselli come lì Ok Devo mettere il teschio di animale qua Ok Ok ragazzi Ok possiamo uscire Pannocarta Pannocarta Chiappona Chiappona Levati Pannocarta raga Sono abituato a cose ben diverse Degli horror Questi qua sono semplicemente abbastanza simpatici anzi E non so se ci va la maschera di piacere No Questa qua cos'è? L'angelo che piange Ok E' qua dietro? Un attimo signora che sto a fare le mie cose Maschera da furia E poi vado dal duca Wolverine Vieni dal duca E vieni dal duca E vieni dal duca Dai E vieni dal duca E ora Lei sta salendo Qua abbiamo messo tutto Possiamo entrare L'intera stirpe Stava a parlare Mi sa che se ne accorta Da uno come te Se ne accorta ragazzi Dove Stiamo andando ragazzi? C'è una tomba? Uh il pugnale ragazzi Il pugnale Dei doni della morte Il pugnale ragazzi Con i veleni Questa qua sarà l'arma quindi decisiva Oh inficcalo Merda Merda Finisce così Merda Si stava cristallizzando Ho visto Ok Addio pugnale Porca merda Ah Però l'abbiamo Ah si sta trasformando Nel pipistro raga Nel pipistro Si sta trasformando Nel pipistro No Non è un pipistro Questo ragazzi È la madonna Ma che diamine è ragazzi? Una genova Ma che diamine è questo? Un bamut Bamut Tutto questo Maria Ah lei C'ha pure Arraffati Porca miseria Tanta roba Tanta roba Ragazzi Tanta roba Non me l'aspettavo Sta cosa Pensavo Il classico Vampirallo Guardate cosa è diventato Ho potenziato Ho potenziato così tanto la pistola Che Che lo faccia parecchio male Ok Ah ok Non è la ancora Non siamo ancora nella boss fight Raga Ci andiamo adesso Settantasei colpi Eccola Sta ritornando Merda Wow 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 Incredibile raga Incredibile Quanto cavolo Era grossa Merda Merda Alla fuga Alla fuga Alla fuga Alla fuga Dov'è Dov'è Sì Sono onorato C'è il conte Se vuole Di là c'è il conte Merda Mi sento lento Contro sto coso Mega gigante Dov'è Ok Quanti colpi Mi fottio Comunque Adesso i proiettili Gli fanno qualcosa Spacca anche questa Sì Si la spacca Ok Dove sei Che non ti vedo Eccoti lì Fai un bel cheese Oh Via 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 Se mi addento Credo Se mi addenta Ragazzi Questo qua È game over O forse no Forse no Ok Dove è andata? Io mi riparo qua dentro Cosa è che stavi dicendo? Non so cosa sta succedendo Non so cosa stava succedendo Raga A parte che È arrivato uno sciame E io Me ne sbatto Potevo usare Il fucile da cecchino Comunque Cosa sta succedendo Con sto sciame Le mosche Comunque Allora anche lei Fa parte di ste mosche Dove Dove è finita? Oh Andiamo di pompa Raga Andiamo di pompa Merda Se questo marro Uffa Oh Schifoso parassita Sì sì Schifoso parassita Io Perché sei fatta di mosche? Eh Un bel po' di colpi Ti sto dando In effetti Carica Carica Dove è il fucile da cecchino? Aspetta un attimo Scelta rapida Mettiamo qua Missata Oh Due colpi Semplici 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 Ancora No Che sta succedendo Ragazzi Ah ok Sono andato Nella fase 3 Diciamo Fase 3 E' ancora vivo Mazzà che schifo Raga Questo sì che è Riturativo Merda Merda E devo stare a guardarlo Mamma mia Tutte mosche Dove sei? Raga Io Sviso un attimo Di pompa Eh Se vieni qua Te la mostro Vieni qua Se te la mostro In 5 colpi Aia Stavo scherzando Stavo scherzando Mi hai mostrato Un'altra parte Dell'animale No 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 Che boccone Boccone Merda Questo qua Ma dentro Qua raga Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Raga Usa L'ho fatta L'ho fatta L'ho fatta Raga L'ho fatta L'ho fatta L'ho fatta Mi sta ancora maledicendo Ma credo che è esatto Ok Ero incastrato Lì Ma sta continuamente Ancora parlando Mamma mia Io sono già pronto A interagire Con qualche Quadrato Triangolo No no Credo che Credo che Sia finita Uh Dammi il busto Cristalizzato Non lo venderò mai Questo No il busto Si è rotto Vabbè Oh no Me l'ha dato Il mio tresco Cristalizzato Maledetta Sarai tu Bah Questa qua È una Un'ultima battuta Ah Non c'è niente Da prendere ragazzi C'è solo Questa cosa qua Prendi Ivi Tre E c'era un feto Ragazzi Che cos'è sta roba Analizziamo Possiamo andarcene Flacone sporco Ivi Flacone sporco Contenitori di vetro C'è un emblema Con fiori e spade È troppo sporco Per guardare Al suo interno Che cosa sarebbe Stabilizing C'è anche il feto C'è i fiori E delle spade Non ho capito Però Ok ragazzi C'è Abbiamo finito Abbiamo ucciso la dimitrescu Abbiamo ucciso la lady C'è anche il salva C'è un biglietto Qua Oh Scarti arruginiti Ragazzi Ma i sifoni così Non sono dei sifoni Ragazzi Ci credo che ci avete tanta merda Abbiamo terminato ragazzi La prima boss fight Abbiamo ucciso finalmente La lady dimitrescu Ci fermiamo qua E ci vediamo Nel prossimo episodio No 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 No